Vai un attimo lì Per la luce? Salta Salta Ok no Ok, vabbè basta Mi sono già allenata qui Fatti Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Nuovo video workout cardio Oggi guido io, siamo dalla Vale E tra l'altro siamo dalla Vale estate e inverno Siamo tranquilla, adesso arriva l'estate anche per te Perché oggi guido io l'allenamento Quindi facciamo, siccome siamo in coppia Ho pensato che sarebbe figo fare un EMOM Quindi each minute on the minute Eseguire questi tre esercizi Che adesso vi farò vedere Dentro il minuto E riposare gli ultimi secondi Che vi permettono di arrivare al fine del minuto Sono sette minuti di circuito E farlo in coppia è figo Perché c'è un po' di sfida, no? Allora, il primo esercizio sono Cinque power jump Uno Cinque e cinque dall'altra gamba Poi subito dopo abbiamo Rotate, squat e jump Quindi da qua Uno, due, squat e jump E questa è una rap Esatto Questo è uno Quindi tutto Tutto è uno Ok E infine Half burpee con knee touch Quindi È arrivata l'estate Sono il primo esercizio Cinque e cinque Il secondo cinque L'ultimo dieci Da fare entro il minuto Quindi se si fanno in quaranta secondi Si riposa in venti Se si fanno in cinquantanove secondi Si riposa un minuto Si riparte subito Sette minuti di fila No Stop Se non quei secondi Ok Quindi Facciamo I cinque ne ho messo Iniziamo in cinque Quattro Tre Due Uno Non mi rivo più Oddio Rotate Rotate Uno Due Uno 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 Prese Fotto No, 10 non c'è solo Teniamo 5 Vai, fai 5 Porca voglia Ma io Ok, 1 1 Porca Questo è il conto Guarda, 3, 1 Incastro Oh Gesù, bambino 10 secondi Secondo giro andato Mancano 5 Vai Ok, Katsu mi ha recuperato dieci secondi però che neanche ero quattro giri vai ok Non c'è un'altra cosa! Non c'è un'altra cosa! vai vai dai spettacini aiuto vai caldo è arrivata l'estate è arrivato proprio il caldo africano mi hanno mancan' due due minuti è finita è finita papà l'allenamento due minuti grazie 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 Ma che sincro, davvero L'ultimo Yes Ok Grazie a tutti per questa giornata di workout insieme Ciao Che bello stai Ok Prima Parte dell'allenamento andato Devo sputare Vai Certo Ho avuto la cacca Prima che arrivassi Buono Ode Valentina C'è Silvia Casciano Ho visto l'emozionale same Eh Eh L'ho vista Non ho capito Questo Io vomito Ma è tipo same Salmone Sì Ok Adesso Facciamo un circuito Composto Da 4 esercizi 40 secondi di lavoro 20 secondi di pausa Facciamo 4 giri Quindi ancora qui un quarto d'ora No, quindi qui un quarto d'ora Allora Gli esercizi sono Allora Parti dall'affondo Fai switch Fai un passo avanti Fai un passo indietro Ok Così vai sempre avanti con un diverso Ok 40 secondi Poi L'altro esercizio è Da bear Voi indietro pike Sì Quindi continui Esatto Benissimo Poi Russian twist Forse è meglio per il tappetino Quindi Easy Piazza su o giù Infine Shoulder tap Sì Però con velocità Ok Quindi Il ritmo è Dalla posizione di plank Fai 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Ok Va buono Possiamo tenere il tappetino per tutto Qua davanti Qua davanti Sì Ok 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 Quindi Qui forse è meglio l'app Sì Sì Ce l'hai lì? Sì Ce l'ho qui Ok Per una pazzetta Dica sono un fluido? Un fluido 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 5 4 3 2 1 Sembrano dei robottini Tiki 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 Cazzo non sembra però No no sembra sembra Iniziamo a mollare Non l'ho fatto a solito Ritornare indietro 3 2 1 Ok Ora abbiamo il L'anca Salve un po' più indietro Sì Che meraviglia La brividiamo Ma io sto scivolando Un po' bagnante Sì Che cazzo Ecco Ration Ration twist Odio Odio Vai 20 secondi Già fatto Perché stiamo aumentando Il ritmo Non lo so Forse va più presto 3 2 1 Ok Ci ho del touch Lento lento Rapido rapido No? Sì 4 Che manate Su un tappetino Quello lento Vai 20 secondi È l'ultimo Mamma mia Santo Si ricomincia Vamos alla praia Oh Oh Questo è il fondio Mi sa Che si è Dos Dos Trammato Vi mandiamo a male Così eh Sforzate Eh Sappiamo Lei è già pranzato No Io sì C'è la pasta che mi sta Parlando Sì Ho mangiato le castagne Sì Fatte le friggite C'è l'aria Ah quella lì Cazzo buonissime Ah sì Ho mangiato le tutte le ho Vole a assaggiare Vai 10 Finita E vedi Se parla di cibo Mi passa Di più Mangiare la pasta Sì Non so cosa mangiarla Cos'era Ber Io lo avevo all'incricetto Se vuoi fare una tiropita No la tiropita non ci vuole Però Mi farò qualche sguardo a passare Fina la tiropita Quella che è la tiropita Mi raccomando Non si appoggia le ginocchia Ai 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 Sempre su Non perdere la schiena Vi vediamo Che è stato appoggiando Passa Mamma Non so se sarà ancora sua amica Dopo questa lezione Guarda siamo precisamente a metà ora No quasi Questo è il secondo o terzo giro Secondo Allora niente Cioè mi fida pure per il culo Eh va bene A metà del mio ultimo carri È arrivato il corriere Quindi si sta aspettando un pacco No Vai vai Dieci Dai eh Cinque Quattro Tre Due Uno Mamma Saura Scegna il touch Ti piace? Sì Sì Allora Avrei preferito più scuro È troppo metallizzato Secondo me è un colore Che non mi sta molto bene addosso Non è tanto più una tua paletta Prossima volta voglio provare a farlo ramato Così metallizzato Mi chiamo malata Non ti piace? Malata Sì E da una che ha problemi di circolazione Diciotto secondi Ma questo sarebbe stato figo più scuro Oddio No Non c'è più il veloce Stop Mamma mia Questo è posto Proviamo a fare gli affondi laterali Così che Sì Si veda un po' meglio Sì Perché forse Tu ci stai lì? Sì 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 Allora proviamo così Aspetta mi metto branchili come se non è casino Vai Come ti trovi con i Birkenstock? Benissimo Però solo quelle con la sua la software Quindi quelle Queste? Sì Ok Perché con la sua rigida ceriale le ho prese Mi fanno un male Porco Allora può essere Io st'estate ci ho fatto un pensiero Le ho provate ma Ho detto Cacchia ma neanche se sono un po' così incomode Allora forse ho provato quelle là Quelle là sulla sua rigida Sì Queste sono una bomba Sono tutte di gomma Quelle sono una roba Ben Ci stai? Sì sì Quelle sono una bomba Qui c'è per mille colori Che? Sì Sì C'è il modello C'è solo quello Ok Oppure c'è Infradito Ma Altrimenti così ho infradito Così è il migliore in assoluto È di una comodità Anche l'inverno col calzettone Ovvio È tutto di me No però vabbè io che Ho problemi alle ginocchia E quelle lì mi salvano di brutto non ci stai facendo lascia faccia 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 ho finito ti tocco il tuo passi dai Vai! Ah sì, io ho una foresta amazzona. Little bear! Sì, perché io faccio l'epilazione. Solo che a giugno, quando devo fare la seduta, ero troppo abbronzata e non l'avevamo fatta fare. E quindi mi hanno detto, ora che passa l'abbronzatura devi aspettare tipo quasi un anno. O tipo dicembre, mi hanno detto. Probabilmente possiamo farlo a dicembre. E ho detto, ho capito cazzo, c'è un'estate davanti. E quindi mi hanno detto, fatti la ceretta. È stata alternativa. E, sì, dirla al genitio, sì. Cioè, è stata morbida. Mamma mia, gambe, gambe. L'ultimo anno. Eh, l'ultimo... Our friend. E mi hanno detto, fatti la ceretta, solo che adesso mi sono cresciuta in... Neri, ma neri. Eh, con la ceretta. Voglio essere... Ci stiamo? Sì. Sì. Uno, due... Vai, 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 vai. Ehi. Vai, vai, vai. Io mi sono rallentata rispetto ai primi giri. Davvero. Dai, sei a metà. Non c'è più differenza. Vai, l'ultimo. Vai, vai. L'ultimo giro. Dai. Poi finita. Esatto. Non ci sono mai fatti. Dai cazzo! Quattro minuti, è finita. qui c'è più concentrazione. E invece... Mi stavo autolodando. E invece sono caduta. Vai, dieci secondi. Add a metà. Non sono mai arrabbi. Ah, cucciolo con la mia mamma, credo che abbia portato l'asilo oggi, amore, devi vederlo domenica con Paolo, non l'ha lasciato da solo un secondo, cuore, lo riconosce vero? Cioè, gli fa le feste, lo cerca, sono andata a prendere un ferro della partita con lui, madonna qua l'ha visto, tipo a, stanno stati almeno 50 metri, ho iniziato a chiamarlo, si, si, sono girati tutti, è vero, è vero che fa così, sono girati tutti a guardare e pensavo che gli stessi facendo chissà cosa, e invece era perché chiamavo Paolo, amore. Paolo sa, non stacco a vero, così non... ma adesso volevo portarlo. In aereo? Sì. Può volare lui? Sì, con me. Sì, se ti devi prendere il biglietto a parte, lo prendo perché sta con me seduto, cioè in mezzo ai miei gambe, a terra, quindi ovviamente non posso prendere... Ma in aereo? In emergenza. Sì, sì, in cabina. Sì, sì, in cabina. No, Argo Joins, ti va molto bene. Ma vabbè. Conoscendo. Sì, sì, con me, con me cabina. E tipo, una volta che vado giù solo quattro giorni, provo a portarlo. Dici, piuttosto che due settimane? Sì, perché è troppo due settimane. Ha mai viaggiato lui? No. Ho un po' d'ansia. No. Due. Uno. Ok. Vai. L'ultimo. Oh, Gesù, grazie. Provo a portarlo al mare, capito? Ah, come si fa questo? Perché lui non sta sul mare. Sì. No, da casa di qua lo è al mare. È la casa nostra lì. Sì, sì, esatto. Quello dico. Ah, ok. Provo a portarlo al mare. Non è mai stato lui. Me l'ha dato una volta con me e mia mamma che siamo andati a rimini, ci sono due posti lì, ma non abbiamo potuto liberarlo. Lì c'è una spiaggia per i cani. Ma, allora, fuori stagione sono tutte liberi. Ok, solo in stagione e i dorali. Forza, forza, forza. Vai, beh, 10 secondi. Dai. E poi costruiamo la forza. Sì, sì, lo so. Mini circuito finito. Discard, sì. Boh, l'ho salvato. Non so mai. Abbiamo gli ultimi 10 minuti. E li facciamo l'emom. Emom uguale a quello di prima. Dai, sono 7 minuti. Dai, non è vero. 7 minuti. Sto per partire. 3, 2, 1, via. Forza, forza ragazzi. Dai, dai, non vogliamo. Dai, 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 dai. Non lo può. Vai, vai, non perdiamo il ritmo. Non lo so che ci sembra che sia. 7 minuti e mi sembra che ci sembra che sia. Guarda, 7 minuti. 7 minuti non saranno entro le 15 e 10. Sono le 15 sotto la 9. Lo ricordi? Sì. 5 da una parte, 5 dall'altra, 5 e 5. In 10, 9, 8. Vale. Sì. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Che siamo belle fresche. Ehi, che cambio atletico. Fatti, vieni sfaccato mezzo giù. C'ho i cani attaccati ai polpacci. I cani? Sì. Dal male che ho. Quei mai? Eh, come mai. Mi ha saltato uno? Ma no, su, io che so dovevo. Forse ne ho saltato più, ma guarda. Dobbiamo migliorare i primi. Quando mettiamo i primi, possiamo recuperare di più. No, io sono lente in quelli in mezzo perché mi perdo. Però 50 secondi è quello che impiego. Ok. Ho perso il conto. Oddio. Cazzo. Cazzo, mancano 5. Dai che hai iniziato uomini e donne. Ah, è finito il video full. Uno. Un'altra. Sì Non c'è sfida qui Oddio Non recupero un cazzo Dai 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 3, 2, 1 Via con me, 1, vai 2, 3, vai 4, 5, cambio subito Via, 1, 2 Sei con me, sei con me, 3, ramollare 4, 5, andiamo E, e giù 1, vai 1, 2, 2 1, 2, 3, andiamo 1, 2, 4 Forza, 1, 2 5, giù Via, 1, 2 Su Dai Non mollare, sei con me L'ultimo No Tu hai 4 Eh sì Vai Dai 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 Sì Sì Brava Non c'è tre Giusto? Sono tre Eh dai, tre non è male Dai 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 L'ultimo Sì Cioè il giro più veloce Ti viene mancano altri due Dai Adesso è più difficile Perché l'ultimo Sai che è finito e facile Dai Vai 1 Vai Non ho saltato Non è salito Per seconda L'ultimo 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 Vai, vai, vai Manca uno Ultimo Ultimo 3 3 3 4 5 5 1 1 2 3 4 4 4 4 E' l'ultimo Ciao Ciao Io muoio Ciao ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se siete lasciate un piacere E se siete lasciati un commento E' un commento Se capite qualcosa Noi ci vediamo al prossimo video Grazie Vale Ciao Ciao Ciao